ciao amici bentornati su festecompleanni.com io sono il vostro mister nani come avete visto sto andando a fare un bel bagnetto rilassante sulla mia vasca calda insieme alla mia amica dove la mia paperella ottima idea perché non sfruttiamo questa occasione per imparare a realizzare una bella paperella con i palloncini modellabili cominciamo subito con la base della nostra paperella con un palloncino solo riusciremo a fare testa corpo ali e anche codina volete sapere come non perdetevi neanche una torsione con la base della nostra paperella con i palloncini ora continuiamo con gli occhi prendiamo un palloncino di colore bianco facciamo due salsicce della stessa grandezza le fissiamo in questo punto facendole passare qui sopra qua 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 ora facciamo le zampine prendiamo un palloncino e facciamo due salsicce con la torsione ad anello e le fissiamo proprio qua qua proseguiamo con il becco prendiamo un palloncino di colore arancione e facciamo tre salsicce con la torsione ad anello e facciamo un palloncino di colore pronta per fare il bagnetto? ragazzi voglio ricordarti che potete trovare questa e tantissime altre sculture anche sul nostro sito internet dovete cercare www.festecompleanni.com vi raccomando iscrivetevi al nostro canale youtube feste compleanni se ancora non l'avete fatto perché ogni mese troverete tantissime nuove sculture da realizzare con i palloncini modellabili grazie per averci seguito un saluto dal vostro Mr. Nani dalla vostra poperella e via con il bagnetto!